La pandemia ci ha imposto di ripensare alla nostra quotidianità. Abbiamo dovuto rinunciare alle nostre abitudini, ma abbiamo anche scoperto nuovi modi di fare le cose. L'e-commerce, ad esempio, è diventato parte integrante della nostra vita. Ogni medaglia, però, ha il suo rovescio e anche nell'e-commerce sono emerse delle criticità. La mole di lavoro dei corrieri è aumentata in maniera esponenziale e anche la loro corsa contro il tempo. Una corsa che rallenta se il destinatario non è in casa. E così il giro si ripete anche più volte e l'ambiente non ne trae certo beneficio. I problemi del corriere non sono gli unici. Quante volte abbiamo rinunciato ad uscire oppure abbiamo spostato degli impegni per aspettare la consegna del pacco? È vero, può sempre darci una mano la nostra brava vicina di casa che abbiamo incaricato di ritirare il nostro pacco. Ma anche il tempo della nostra vicina è prezioso. Dei vantaggi dell'e-commerce non ne vogliamo più fare a meno ma dei difetti ne faremo a meno volentieri. Noi di Montagnana for Robotics abbiamo raccolto la sfida e abbiamo deciso di creare Robox. Molto più di una semplice box, molto più di un semplice robot. Robox contiene i pacchi depositati dal corriere e eventualmente da conoscenti. Il corriere, tramite un tag NFC, deposita velocemente il pacco all'interno senza perdere tempo. Ma come funziona? Nel momento dell'acquisto online inseriamo il codice della nostra Robox che avrà assegnato il corriere per l'apertura. Il proprietario potrà poi prendere il pacco aprendo Robox con il suo tag NFC. Il meccanismo di apertura e chiusura della box è gestita da una scheda Arduino in grado di leggere i tag NFC. In contemporanea, la scheda provvederà anche a inviare una notifica al proprio cellulare. Abbiamo messo a frutto le nostre competenze tecnologiche abbiamo ideato un'app la quale permette di gestire l'apertura e la chiusura controllare gli accessi e di abilitare l'apertura a amici o parenti del loro scompartimento dedicato. Abbiamo lavorato per rendere la nostra Robox adatta a tutte le esigenze dei nostri utenti. La nostra Robox è a misura di casa tua. Abbiamo creato il modello Essential, il modello standard. Ognuno di essi contiene uno scompartimento che serve per scambiare oggetti tra amici e familiari. La nostra Robox è a misura del tuo condominio. Questo modello possiede 6 sezioni per il deposito di pacchi e 2 per condividere piccoli oggetti. La nostra Robox è a misura per la tua azienda. Sono disponibili i modelli Classic alimentato dalla rete elettrica e il modello Green alimentato a pannelli fotovoltaici per garantire un risparmio energetico. Tutto questo è grazie a consulenze con esperti nel settore i quali ci hanno consigliato un target di persone a cui rivolgerci come implementare il nostro sistema nei vari siti di e-commerce. Sicura, funzionale, ecologica, economica. Robox è il futuro dell'e-commerce sostenibile. A progettarla abbiamo pensato noi. Tu pensa ai tuoi acquisti online. Quanto al resto, lascia che se ne occupi Robox.